L'Europa ha bisogno di una nuova governance e la governance è uno strumento per raggiungere obiettivi che sono quelli che tutti i cittadini attribuiscono all'Europa e gli obiettivi sono quelli di una maggiore unità, di una maggiore anche solidarietà verso i paesi che hanno più debolezze strutturali, non questa divisione artificiosa anche se geograficamente corretta tra paesi mediterranei sempre difettosi e paesi nordici invece sempre virtuosi e quindi io credo che la governance sia importante ma la governance passa attraverso la revisione dei trattati, quindi i trattati non si possono semplicemente buttare nel cestino, vanno presi, si dice questo va modificato, quest'altro va modificato, dobbiamo dare più potere all'Europa e io penso che d'altronde questo sia ciò che i nostri giovani che si sentono europei molto più che non italiani, francesi, tedeschi, austriaci, questo i nostri giovani lo sanno e io spero che ci sia questo recupero di saggezza anche da parte nostra perché in Italia che è un paese fondatore potrà contribuire al cambiamento e al miglioramento della governance europea.